Nel dicembre 2015 Messina era stata esclusa dalle città metropolitane inserite nel elenco del Masterplan. Ebbene, nove mesi dopo, il Premier, direttamente Renzi, è qui a Messina, una città blindata, per firmare il patto per Messina, 332 milioni di euro nel primo biennio. Come dicevo, nel dicembre 2015 Messina era fuori soltanto grazie all'intervento, al costante intervento della deputazione messinese nei confronti del governo Renzi, da Tommaso Curro, Ernesto Carbone, Gian Piero D'Alia, Enzo Garofalo. In seguito a tutto questo lavoro di diplomazia siamo riusciti a rientrare nel Masterplan, nel patto tra gli ultimi ad essere firmati. Dicevo, Messina blindata, subito dopo l'università, Renzi sarà al Palacultura per il suo intervento sul SIE al referendum. A protestare fuori dal Palacultura, al di fuori dell'Ateneo, ci sono i comitati per il no al referendum e i comitati no ponte. Signor Sindaco, signori sindaci, è con grande gioia che firmiamo questo importante patto con l'obiettivo principale quello di intervenire su alcune infrastrutture. C'è un lavoro molto serio, rigoroso, puntuale, che cambia il rapporto Stato-Governo. Noi siamo qui per dire controllate come noi li seguiamo, ma anche per dire li controlliamo. Abbiamo chiuso praticamente con tutte le realtà del mezzogiorno i batti. Io penso che noi viviamo in una stagione sicuramente difficile, ma in una stagione che è meravigliosa per il nostro Paese. Il nostro Paese ha tutto per essere un luminoso punto di riferimento, in Europa e nel mondo. Va tutto bene, ciascuno ha le proprie opinioni, le proprie polemiche, le proprie idee, evviva. È la bellezza del gioco democratico. Ma poi c'è una cosa più grande di tutti, che si chiama Italia. Tutti noi mettiamo il cuore di impegno per essere all'artezza dei sogni dell'Italia. Grazie Magnifico Rettore, grazie signor Silvia. Adesso si procederà alla firma del Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Sessina. Allora, per essere chiari, è evidente che le infrastrutture grandi hanno un costo maggiore di quelle piccole che la priorità della città metropolitana di Sessina. E anche quello che si scandalizzano, per chi propone, una volta terminata questa fase di lavorare sul ponte, io ho detto che siamo pronti a discuterne anche il punto di tempo. Ci vuole il ponte! Non l'avrei mai immaginato. Vabbè, quello che vuoi dire, un ponte a me. Ma, vabbè, facciate che signora... No, è importante, è un testo che vuoi dire il ponte, il suo prefetto. Ora, l'arrivo, però, mi sembra che è in un salone, ma ci vuoi vedere uno stupendetto a ponte. Allora, fermi. Voglio dirvi che una cosa... Noi siamo divertenti, non ci siamo. Una cosa che non accetteremo mai è che si possano spendere 6-7 miliardi per la primavera e la primavera. 6-7 miliardi per il tempo. 1 miliardo e 2 per fare la primavera in banca con le 4-4 milioni per la primavera. Punti di interventi necessari. E poi, se non ci vede, facciamo anche un'infrastruttura al sud. Ah no, al sud no perché è in un'unità. È una marcia. Grazie.